Ciao a tutti da Inselweb, benvenuti in questo nuovo video e questo nuovo video finalmente sarà la seconda parte della haul che avevo già fatto, che se non avete visto qui nel pallino informazioni sarà questa seconda parte di acquisti fatti però col Black Friday. Vi anticipo che non sarà una haul molto lunga, anzi forse sarà una haul la più corta di Youtube, ma comunque iniziamo subito. Praticamente con il Cyber Monday perché ho in mente il Cyber Monday? Vabbè, comunque col Black Friday ho fatto un ordine Monac e adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro ed il pacchetto è questo qua. Allora, voi adesso vedrete tutto scombinato perché io ho fatto cioè ho guardato la roba, poi l'ho rimessa dentro per farvi il video comunque i prodotti arrivano nel Pluriball che praticamente proteggono i prodotti al massimo infatti non me ne è arrivato nessuno rotto per fortuna come sempre per tutti gli ordini Mulac vi danno nel pacchettino nell'ordine troverete il campioncino olio siero riparatore per i capelli Wilberry 10 di Mulac Air Lab io questo è il secondo campioncino che ricevo perché avevo fatto già un ordine, praticamente non li ho ancora provati quindi penso che unirò quel campioncino a questo mi farò un bellissimo impacco poi se seguite i miei video, i miei precedenti preferiti del mese o non mi ricordo dove l'avevo messo avevo praticamente comprato un prodotto sopracciglia di NYX Professional Makeup e praticamente quel prodotto l'avevo comprato in seguito alla fine del mio amato prodotto di Benefit in cui mi ero trovata non bene di più e ho cercato di correre ai ripari con un prodotto che è economico ma buono il problema è che mi è finito subito e quindi ci sono rimasta malissimo perché ok non ci ho speso tanto però comunque ci ho sempre speso dei soldi e pensavo che un prodotto sopracciglia che comunque le ragazze, i ragazzi comunque usano durasse di più quindi quando Mulac ha lanciato la linea dei Brow Pot mi ci sono subito fiondata al primo ordine e quindi ho preso 02 Blondie adesso ve lo vado a far vedere allora la cialdina è questa qua non ho preso Wannabe Blonde perché avevo paura fosse troppo scuro nonostante avesse scurito i capelli ma comunque il colore è questo qua e credo che comunque con la mia carnagione molto chiara vada super bene poi lo proverò perché non ho ancora provato nulla per farvi vedere tutto intatto in questo video e vi farò sapere poi un'altra cosa che stavo adocchiando da una vita ma ragazzi veramente da una vita forse ancora prima di My Birthday Sweet no scherzo perché è uscita dopo comunque se fosse uscita prima di quella tinta l'avrei assolutamente comprata è Potters Clay che è anche la tinta che sto indossando e ve la vado a far vedere perché è un colore wow non so veramente come descrivervelo ecco qua questo è Potters Clay molto aranciato molto autunnale io amo questo colore e niente lo volevo troppo provare e mi sta dando un sacco di soddisfazione nonostante sia da pochi giorni che la sto indossando sì questa non ce l'ho fatta l'ho dovuta provare subito perché e niente mi chiamava mi chiamava era lì nel pacco mula che mi diceva provami 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 e l'ho accontentata questa è Potters Clay cioè ditemi la bellezza la bellezza cioè si asciuga subito è molto molto confortevole adesso ve la vado anche ad aprire lo scovolino è questo qua e questa è la tinta poi un'altra cosa che ho preso dalla Mulac perché comunque io avevo quasi tutto per la base insomma ho il fontinta ho il correttore anche se dovrei cambiarli perché sono un po' troppo pesanti per il mio tipo di pelle ho il prodotto sopracciglia adesso ma comunque non avevo niente per illuminare e contourizzare il viso quindi ho approfittato per il Black Friday per andare a concludere la mia base viso perché come vedete io faccio solo gli occhi le labbra adesso farò anche le sopracciglia ma non ho mai fatto un contouring ho sempre avuto il blush quindi ho detto adesso prendi la palla al balzo di questi sconti prendi qualcosa e pian piano inizi a usarli o a esercitarti perlomeno insomma quindi mi sono buttata sulle terre sia in crema che in polvere e sugli illuminanti su un illuminante solo però volendo solamente come esigenza avere almeno i prodotti base e non accedere ho detto ok prendo l'indispensabile e poi più avanti se voglio illuminanti più strani li prenderò quindi ho preso ciò che mi serviva e basta più avanti si vedrà anche perché appena ho fatto questa haul che poi vedrete comunque saranno passati un po' di giorni ma è appena uscita la collezione womanly di mulac e quindi tu sei lì grazie mulac per prosciugarmi il conto comunque una cosa che mi ha scandalizzato è che avevo paura di aver sbagliato perché sai a un certo punto vedi gli sconti e dici wow costa pochissimo lo prendo no è che quando mi sono arrivati cioè io ho preso le cialdine singole non ho preso la palette intera delle terre perché alcune erano veramente scurissime quindi quando ho ordinato i vari pezzi insomma ho ordinato le cialdine ma ho ordinato le cialdine già nella scatoletta no quindi quando mi sono arrivati i prodotti così o meglio la prima cosa che ho visto è stato questo mi sono spaventata perché ho detto cacchio vuoi vedere che ho preso solo il refill per la palette e invece no la mulac praticamente scomposti e non lo sapevo perdonate la mia ignoranza ma era il mio secondo ordine mulac e te li manda scomposti e poi tu li vedi comporli e ora vi faccio vedere quali ho preso sembra più un unboxing che una haul però mi sembra di tenere in mano dei prodotti di russo perché sono talmente confezionati bene con cura che ho paura di toccarli non lo so avete presenti quando vi arriva un prodotto che avete tanto desiderato ecco la stessa cosa comunque allora la prima che vado a prendere il primo prodotto è Artemide ed è questa terra qua che ora vedete è scurissima ma vi assicuro che sul sito era una delle più chiare e questa mi pare che sia praticamente il sito dice che allora è in crema è un prodotto in crema ed è marrone chiaro neutro ideale per pelli chiare e medie quindi ho preso questa per fare la prima fase di contouring diciamo comunque io ho bisogno di prodotti sempre in crema perché ho una pelle secchissima e se mettessi polveri su polveri inizierei a fare l'effetto cakey o comunque farinoso e direi proprio di no quindi ho preso questa prima terra in crema altro prodotto questo invece è ipno ed è una terra in polvere chiarissima cioè come vedete è molto più chiara dell'altra e questa la userò per fissare il contouring in crema o semplicemente quando non voglio esagerare e andare a fare proprio l'effetto strong ultimo prodottino di questo ordine quello di cui proprio sono più curiosa al massimo di provare però ripeto ho tenuto tutto intatto per farvi il video perché io ho il vizio di comprare le cose ma di non usarle finché non ve le faccio vedere quindi sono ammassa nella scatola fino a tutto questo tempo e lui è l'illuminante flare o flare non so come si pronunci è il numero 04 ed è un illuminante in crema anche questo l'ho preso in crema perché appunto sempre per lo stesso motivo di prima è un illuminante cangiante io non sapevo se cioè sinceramente non ho ancora capito se sono un sottotono giallo o un sottotono rosa comunque nel dubbio ho preso questo illuminante che sul sito o comunque nei vari svuocis che ho visto in giro praticamente è un illuminante cangiante che è di base champagne però ha dei riflessi anche rosa quindi adoro addio proprio sono l'ora di farvi sapere come si comporta anche lui su di me e niente penso che comunque abbiamo finito adesso vi faccio vedere l'ultimo acquisto il mio ultimo gioiellino della mia makeup collection che pian piano si sta espandendo e poi siamo arrivati alla fine di questa haul l'ultimo arrivato della mia makeup collection appunto è lei praticamente la cipria di Laura Mercier la Lose Setting Powder la Translucent come dice qua non so se metto a fuoco io mi auguro di sì comunque è questa mega cipria super chiacchierata super amata io l'ho provata 3-4 volte dalle mie amiche che ce l'avevano già che la osannavano e ogni volta che me la mettevano o comunque che la provavo io rimanevo sconvolta dalla sua bellezza soprattutto nella zona del correttore dove proprio deve andarsi asciugare per non farlo andare nelle pieghette veramente cioè rimanevo sconvolta era bellissima mi faceva una pelle stupenda quindi ovviamente non si può avere una cipria di quasi 40-50 euro a 10 euro però non so aspettavo di prenderla un po' più scontata diciamo e quando mi è arrivato il messaggio della rilascente dicendo che c'era lo sconto non mi ricordo di quanto su alcuni prodotti io e la mia amica siamo andate a chiedere e lei era scontata quindi l'ho pagata veramente una cavolata per la qualità di questa cipria questa non ce l'ho fatta perché proprio la cipria era una cosa che volevo provare poiché appunto ogni volta che stendevo il fondotinta emettevo la mia cipria che è una cipria assolutamente low cost ed è quella della essence che costa tipo 3-4 euro insomma se appunto siete i principianti siete le prime armi potete benissimo usare quella perché è ottimo il fatto sta che quando andavo a mettere il fondotinta alla fine e fissavo con quella cipria praticamente mi si divideva il fondotinta quindi niente mi sta migliorando tantissimo la vita questi prodotti mi miglioreranno molto la vita make-uposa a cui mi sto approcciando e niente sono super mega felice cioè voi direte non ci stai dicendo niente di nuovo sei tu che ti stai applicando adesso al make-up non noi però ragazzi ve lo devo dire cioè sono super mega felice sto vedendo dei cambiamenti e non vedo l'ora di vedere anche il mio volto più diciamo più strutturato con i nuovi prodotti mulac bene ragazzi allora siamo giunti alla fine di questo unboxing haul acquisti del black friday non so neanche io come chiamerò questo video come sempre qua sotto nell'info box vi lascio i link di ogni singolo prodotto mulac così se comunque siete del mio incarnato comunque avete un incarnato chiaro potete andare a guardare questi prodotti sul sito e andare a praticamente a indirizzarvi sulla mia stessa strada non so vedere dei prodotti simili non so vi lascio anche il link della cipria di Laura Mercier che però non so se vi linkerò dalla rinascente perché non so se la rinascente rivende online ma se la cerco in giro su altri siti europei che non fanno pagare dogana e casini vari ve la linko volentieri e inoltre come vi dico sempre troverete anche i link dei miei social network su cui sono più attiva niente ragazzi io vi saluto qui spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo un bacione ciao ciao